Si considera napoletana d'adozione, il ministro Lamorghese ha studiato e lavorato, qui conosce bene la domanda di sicurezza che parte dal territorio a cui si prova a rispondere anche con l'accordo siglato in prefettura. Io credo che qua siamo in una situazione davvero particolare a Napoli in questo momento, nel senso di sinergia tra tutte le istituzioni perché soltanto insieme, facendo lavoro di squadra, si possono vincere quelle che sono delle sfide. Innanzitutto più videosorveglianza, a Napoli funziona solo il 75% delle telecamere, dice il ministro Lamorghese che invita il nuovo sindaco Manfredi a presentare i progetti, mentre ce ne sono per altri comuni. E poi lotta alla dispersione scolastica, aggravata dai lockdown e terreno di cultura delle baby gang che creano allarme sociale, sono alcuni dei punti dell'accordo per una sicurezza integrata e partecipata, firmato dal prefetto Palomba con il governatore De Luca e il sindaco Manfredi, insieme per prevenire la criminalità diffusa e favorire inclusione e solidarietà. Poi a porte chiuse con il ministro il vertice sull'ordine pubblico a Napoli e in provincia per fermare l'arroganza dei clan.